E' iniziata ad Ankara l'udienza preliminare del processo contro il pianista Fasil Sai, accusato di avere offeso i valori religiosi di una parte della popolazione. Sai, 42 anni, dichiaratamente ateo e di sinistra, aveva messo in rete commenti ironici nei confronti del muezzin di una moschea di Istanbul. Il processo viene visto da molti come un esempio dei limiti posti alla libertà di espressione, dal leggemone partito islamico al potere da dieci anni. Si tratta di un processo alla libertà di espressione, dice quest'avvocato. E' un delitto accusare Fasil, spiega un popolare attore. Il governo dovrebbe ridargli la libertà di tornare a suonare la sua bella musica e a noi il piacere di godercela. Sai che per molti turchi rappresenta un vero simbolo libertario, ha finora suonato con tutte le più prestigiose orchestre internazionali e non ha escluso la possibilità di lasciare la Turchia per stabilirsi in Giappone.